... ... ... Comozione applausi questa mattina al Maggiore di Modica per le dimissioni del paziente di 94 anni di cicli. Si abbassa quindi il numero dei ricoverati. Uno in infettivologia e quattro in rianimazione. Il picco dei contagi in Sicilia sembra ormai alle spalle ma non bisogna abbassare la guardia, lo affermano gli esperti che parlano di una ripresa lenta ma graduale. Il fenomeno degli sbarchi divide la città di Pozzallo. C'è chi propone di intercettare gli scafisti con navi militari e chi invece si dice contrario nel fermare la macchina dell'accoglienza. I bevi consiglieri di Comiso in prima linea nell'emergenza con progetti di sensibilizzazione e volontariato. Al via da oggi l'iniziativa della spesa sospesa. Salve a tutti e bentrovati con il TG di Canale 74. L'avete sentito dai titoli, abbiamo buone notizie oggi. Infatti proprio oggi è stato dimesso il paziente di cicli di 94 anni ricoverato due settimane fa nel reparto di malattie infettive. È guarito e adesso è tornato a casa dalla sua famiglia. Inoltre è in lieve miglioramento. Il 34enne di Gela ha ricoverato in terapia intensiva. Ma facciamo il punto con questo servizio. Dimesso questa mattina il paziente più anziano che da diverse settimane era ricoverato nel reparto di malattie infettive dall'ospedale Maggiore di Modica. Si tratta di un uomo di 94 anni di cicli, padre della donna già ricoverato e poi dimessa. Una bella notizia appena comunicata dall'aspe di Ragusa perché con la dimissione del paziente ricoverato già da due settimane si abbassa il numero dei pazienti ospiti nei reparti interessati al Covid-19. Ne rimane uno in malattie infettive e quattro in terapia intensiva. Il personale sanitario ha accompagnato oggi la dimissione dell'anziano signore con un lungo applauso, poi la soddisfazione che si è unita alla dignità che gli stessi mostrano per l'assistenza sanitaria che garantiscono giorno dopo giorno senza risparmiarsi. La direzione è orgogliosa per i risultati che si stanno ottenendo al Maggiore di Modica. Tutto ciò è frutto dell'impegno dimostrato da tutto il personale del presidio supportato dal prezioso contributo delle strutture sanitarie dell'ospedale che sin dall'inizio ha organizzato tutte le azioni e percorsi necessari ad assicurare assistenza ai pazienti affetti da Covid-19 e nello stesso tempo ha garantito la sicurezza dei lavoratori. Il personale dell'ospedale sta dimostrando grande professionalità ed empatia nella gestione dei pazienti così delicati. In miglioramento anche il ragazzo di Gela, poco più che trentenne, ricoverato in rianimazione. Le sue condizioni di salute sembrano sensibilmente migliorare e fanno ben sperare per una prossima e definitiva ripresa. Ma a mostrare moderata soddisfazione è stato nelle scorse ore anche il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, comunicando alla propria città che nessun nuovo caso si è registrato. Anzi si può notare, al contrario, la guarigione testimoniata dal tampone negativo e dalle buone condizioni di salute di quasi tutti i comisani contagiati da coronavirus che erano in tutto sette. Restando sul fronte delle buone notizie a livello regionale sembra che il picco di contagi da coronavirus sia ormai alle spalle. La conferma arriva dagli esperti che però ricordano che è fondamentale continuare a rispettare le regole. Sentite. I sacrifici potranno a breve essere premiati. Dopo settimane di isolamento si inizia a intravedere la luce in fondo al tunnel anche se la raccomandazione che arriva dalle istituzioni e dagli esperti è sempre la stessa, non mollare proprio adesso. Secondo gli esperti sembra infatti che il picco in Sicilia sia ormai alle spalle. I dati che arrivano sono confortanti e dimostrano sia che le misure prese sono state corrette sia che l'esodo di tanti siciliani verso la Sicilia non ha prodotto il contagio temuto. Nell'isola, studiando i dati provenienti dalla regione siciliana si è registrato un picco dell'epidemia attorno alla fine del mese scorso il 25 marzo per la precisione. Il fatto che le misure di precauzione siano state varate quando l'epidemia non era esplosa e che siano state seguite dai siciliani ha garantito un forte contenimento. All'inizio il tempo di raddoppio dei contagi era di due giorni e mezzo adesso siamo a 22 giorni sicuramente siamo sulla buona strada. Un mese fa nell'isola venivano scoperti quasi 8 positivi al virus ogni 100 tamponi effettuati un dato che dopo due settimane è schizzato al 12%. Da quel momento il numero di nuovi casi rapportato ai tamponi effettuati è progressivamente calato. Secondo diversi esperti che trovano conferme anche dal Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche di Palermo che ha elaborato tali calcoli stimare il momento in cui si verificheranno zero casi non ha senso. Si pensa invece che tra il 24 aprile e il 14 maggio si potrebbe registrare un numero medio giornaliero di nuovi contagiati pari a 10 casi che gli ospedali siciliani dovrebbero poter gestire con meno problemi. Il territorio più virtuoso continua a essere sempre quello ragusano con pochi casi registrati ogni 24 ore. Notizie positive che quindi come sentito però non devono far abbassare la guardia. Lo afferma anche chi nelle ultime ore si è fortemente opposto agli sbarchi in periodo di emergenza. E' a Pozzallo che la situazione a tratti sembra sfuggire di mano con duri attacchi anche a razzisti che hanno provocato la replica della consulta giovanile. E poi c'è anche chi ha ordinato migliaia di mascherine da donare al comune ma attualmente sono bloccate alla dogana. I dettagli nel servizio. Una città spaccata sul piano dell'accoglienza quella di Pozzallo che nelle ultime ore si divide in merito agli sbarchi per qualcuno sarebbe il caso ora più che mai di chiudere tutti i porti. Per altri invece l'accoglienza deve continuare con maggiore prudenza e organizzazione. Nelle scorse ore sui social se ne sono lette di tutti i colori con attacchi anche pubblici rivolti non solo ai migranti ma anche alle istituzioni. Attacchi gratuiti recentemente condannati dalla consulta giovanile di Pozzallo che prende le distanze da chi abusando delle parole mostra un'immagine distorta della propria città. A favore dell'accoglienza anche Giovanni Ciurciu dell'omonima fondazione che in questo periodo si è portato in prima linea con iniziative utili a fronteggiare l'emergenza come la donazione di migliaia di mascherine che però restano inspiegabilmente bloccate alla dogana. Io ho ordinato grazie a un amico in America prima avevo chiesto mille mascherine da donare alla protezione civile dopo li ho portati a duemila altri duemila li sta mettendo questo cittadino pozzallese che abita in America il signor Giovanni Barone ha dieci giorni che queste mascherine si trovano ferme in un deposito doganale perché non si sa se vanno sequestrate se non vanno sequestrate se possono consegnarle e lei tenga conto che noi come destinazione abbiamo messo il comune di Pozzallo ma che paese è questo? la gente sta morendo e la burocrazia si permette di fare queste cose? Ma Ciurciurda sempre impegnato nell'aiutare il prossimo e soprattutto le fasce più deboli non può non prendere voce su quanto in questi giorni si sta registrando a Pozzallo Stengo che la responsabilità è solamente dello Stato perché lo Stato dovrebbe avere quell'intelligenza di capire i fenomeni e provvedere e giustamente cosa si pretende da una società che si vede rifilato un ragazzo che ha il virus addosso e certo lei capisce è gente a casa e succede un fatto del genere chiunque si allarma ma questo però non giustifica assolutamente gli atteggiamenti razzisti contro questa persona perché è incoerenza cioè noi cerchiamo aiuto allo Stato cerchiamo aiuto ai nostri simili ma questi non hanno gli stessi nostri diritti di chiedere anche loro aiuto e di ricevere aiuto sono degli esseri umani io ritengo che la soluzione della nave appoggio che possono mettere è l'ideale perché salvaguarda un territorio salvaguarda un territorio e contemporaneamente assolve un problema umanitario che è quello di salvare le vite umane nettamente contrario invece il deputato nazionale della Lega Orazio Ragusa che ha indirizzato una lettera aperta al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e per conoscenza al Sindaco di Pozzallo Roberto Amatuna affinché da subito possa essere presa in considerazione questa vicenda visto che tra l'altro approssimandosi il bel tempo è in barba a tutti i proclami sinora fatti circa la chiusura dei porti rischiamo di assistere a ulteriori eventi dopo quello di Pasqua gli sbarchi sono da fermare senza se e senza mai in un periodo di emergenza sanitaria come quello attuale non possiamo consentirci distrazione di sorta come tra l'altro ha dimostrato il recente caso del migrante egiziano risultato positivo della stessa idea era già stato qualche giorno fa anche il parlamentare nazionale di Nominardo chiusure utili al fine di tutelare il personale all'interno dell'autospot i cittadini e non vanificare ogni sforzo fatto infine anche l'avvocato Enzo Galazzo porta bandiera in diverse iniziative cittadine ha voluto dire la propria esortando chi di competenza a intercettare le navi scafiste al limite delle acque nazionali far trascorrere un periodo di quarantena ai migranti sempre all'interno delle imbarcazioni e poi destinarli ai paesi europei la cronaca la polizia di stato ha arrestato un quarantenne vittoriese intento a spacciare droga la sera di Pasquetta l'uomo era stato notato da una pattuglia insieme ad altri tre giovani in una via del centro vittoriese senza rispettare l'obbligo di stare a casa visto l'atteggiamento sospetto gli agenti hanno prequisito l'uomo estendendo i controlli alla sua bottega dove sono state rinvenute sequestrate due bocce di vetro contenenti preinsumibile sostanza stupefacente del tipo marihuana per un peso complessivo di circa 160 grammi numerose bustine confezionate contenenti la stessa sostanza un bilancino di precisione materiale per il confezionamento e banconote di diverso taglio il tutto è stato sequestrato e l'uomo è stato tratto in arresto per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti e invece la polizia locale di Modica ha deferito due persone rispettivamente di 25 e 45 anni a seguito di un'articolata attività di indagine che era stata avviata lo scorso 20 marzo i gnoti infatti avevano manomesso parte dei contenuti delle registrazioni effettuate dalle telecamere utilizzate contro il fenomeno dell'abbandono e del conferimento non differenziato dei rifiuti e avevano anche sottratto una videocamera i fatti sono verificati in tre località del territorio Modicano Contrada Busita Carranzonza via Modica Ragusa e via Taormina in quest'ultima zona che si trova Marina di Modica è stata asportata una delle telecamere scusate il 25enne di Scicli dipendente di un'azienda che opera nel settore della videosorveglianza è stato così denunciato per danneggiamento di dati informatici utilizzati da un ente pubblico stessa sorte è toccata al Modicano di 45 anni imprenditore autonomo del settore accusato di furto aggravato e ora spostiamoci a Ispica dove molti consiglieri d'opposizione lamentano una totale chiusura da parte dell'amministrazione il Consiglio Comunale a loro dire dall'inizio dell'emergenza è sempre stato escluso nelle scelte più importanti un danno alla trasparenza e alla democrazia e per questo nove consiglieri hanno deciso di informare chi di competenza i dettagli nel servizio i consiglieri comunali di Ispica esclusi dalla vita amministrativa e nove di loro decidono quindi di scrivere alle autorità competenti al fine di far rispettare le più elementari procedure democratiche in tutti i comuni d'Italia scrivono parte dei consiglieri di opposizione Arena Barone Corallo Denaro Isaurico Leontini Pluchinotta Quarelle Sessa l'emergenza coronavirus ha indotto le amministrazioni comunali ad intervenire in piena sintonia e in totale collaborazione con i consiglieri comunali con le associazioni di volontariato e con il mondo ecclesiastico non si riesce a comprendere perché solo a Ispica i consiglieri comunali devono essere del tutto esclusi dalla partecipazione alla gestione dell'emergenza nei limiti delle loro competenze nella città infatti l'amministrazione comunale e la presidenza del consiglio comunale hanno interrotto da tempo tutte le procedure democratiche le interrogazioni dei consiglieri comunali non ricevono risposte da mesi persino le richieste avanzate da alcuni consiglieri comunali di convocare un consiglio in videoconferenza avente ad oggetto emergenza coronavirus ad Ispica è rimasta disattesa pertanto si nega persino continuano i nuovi consiglieri di opposizione il diritto di fornire il proprio contributo e di dare il proprio aiuto alla città in difficoltà persino la volontà espressa formalmente dagli stessi consiglieri di devolvere a finalità di sostegno alle famiglie in difficoltà le somme derivanti dalle inennità di presenza delle sedute del consiglio comunale è rimasta frustrata dal silenzio dai rappresentanti del comune sia amministratori che burocrati insomma un consiglio escluso è imbavagliato anche di fronte a scelte importanti come l'utilizzo dei finanziamenti statali e regionali da destinare a favore della cittadinanza per tali consiglieri la democrazia in certi momenti non è solo trasparenza ma anche efficienza per questo appare assurdo come l'amministrazione ha senza alcun preavviso o motivazione escluso il consiglio comunale che invece esorta verso una collaborazione ampia e aperta per questo i consiglieri comunali firmatari della nota hanno alla fine del comunicato informato di aver già inoltrato degli avvisi alle autorità competenti perché si ripristini il rispetto delle più elementari procedure democratiche e il coronavirus ha bloccato anche i cantieri dell'autostrada Siracusa Gela ma la regione che è già al lavoro per il dopo emergenza fa sapere che il prossimo 4 maggio salvo imprevisti ripartiranno i lavori per completare l'opera per cercare di recuperare il tempo perduto sentita i cantieri sulla Siracusa Gela pronti a riaprire battenti bisognerà solo attendere ancora poco più di due settimane ovvero lo scadere del lockdown fissato per il 3 maggio e poi dal giorno seguente operai già in strada per completare l'opera e recuperare il tempo perduto il coronavirus ha infatti bloccato e fatto slittare a date incerte il cronoprogramma e per questo la regione è già al lavoro per il dopo emergenza certo ormai da escludere la consegna così come era stato annunciato prima della pandemia entro il prossimo agosto dei due lotti da Rosolini a Ispica si tratta di 10 chilometri in tutto di cui quasi 5 sono stati già asfaltati intanto però come già accennato qualcosa si inizia già a programmare per i prossimi giorni a favore di una rapida ripresa il prossimo 4 maggio salvo imprevisti il cantiere dell'autostrada Siracusa Gela ripartirà a pieno regime già dalla prossima settimana comunque avranno luogo alcuni interventi minori nel rispetto delle normative di prevenzione del contagio lo ha reso noto l'assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone al termine di una videoconferenza dedicata all'autostrada Siracusa Gela alla presenza dei tecnici del consorzio per le autostrade siciliane e dell'impresa appaltatrice con Sedil attualmente sui lotti 6, 7 e 8 tra Rosolini e Modica è in corso la costruzione di quasi 20 km di tracciato autostradale l'opera così come decine di altre in Sicilia ha subito una battuta d'arresto a causa dell'emergenza coronavirus spiega Falcone ma il governo Musumeci ha in ogni caso mantenuto costante la vigilanza sul cantiere garantendo grazie all'impegno del CAS anche i necessari flussi di liquidità lavoriamo così al dopo emergenza per farci trovare pronti conclude Falcone quando il lockdown avrà fine contenere gli effetti della crisi economica sull'isola e ora parliamo di alcune belle iniziative promosse dai baby consiglieri di Comiso uno di loro in questi giorni ha pubblicato un video che sta spopolando sui social inoltre il baby sindaco ha anche annunciato l'avvio da oggi della spesa sospesa è giusto restare a casa sono le regole e ora anche se siamo giovani dobbiamo rispettarle per il bene di tutti due mani che si incontrano anche se solo virtualmente in segno di vicinanza sono le fotografie dei ragazzi del baby consiglio di Comiso montate da Carmelo Burrafato anche lui baby consigliere che ha voluto attraverso un breve video mandare dei segnali chiari che partono proprio dai più giovani rispettare le direttive anticontagio e nello stesso tempo non trascurare le proprie amicizie in vista di una certa ripresa anche noi che siamo abituati a stare all'aria aperta adesso dobbiamo seguire queste regole un video che in queste ore sta spopolando sulle pagine facebook con tantissimi commenti positivi e di speranza tra loro anche il primo cittadino Maria Rita Schembari che non si è sottratta nell'iniziativa portata avanti dal piccolo consigliere comunale insieme possiamo essere uniti anche se distanti restate a casa andrà tutto bene un toccarsi e restare vicini solo virtualmente unito però anche ad altre iniziative più concrete come quella annunciata in queste ultime ore proprio dal baby sindaco dei ragazzi Beatrice che è presente e invita i cittadini ad aderire all'iniziativa denominata spesa sospesa il consiglio dei ragazzi invita tutti i cittadini che ne abbiano la possibilità a lasciare un bene di prima necessità nel carrello con la scritta spesa sospesa iniziativa del baby consiglio l'iniziativa partirà dal giorno 15 aprile e terminerà giorno 25 aprile ricordiamoci che un nostro piccolo gesto di solidarietà può essere utile a tante persone in difficoltà vi ringrazio in anticipo e vi auguro una buona serata bene questo era il nostro ultimo servizio il TG termina qui grazie come sempre per averci seguito e arrivederci